Siamo venuti qui per fare gli auguri al Sindaco Marino, perché oggi è il suo compleanno, abbiamo portato anche la tortina e gli abbiamo fatto tanti auguri. Questo è il messaggio che i lavoratori della Multiservizi e il Comitato Cittadini di Torpignattara gli mandano al nostro Sindaco che ha fatto una dichiarazione che resterà fino al 2023 quando il mandato gli scade nel 2018. Grazie. Dopo la battaglia di luglio scorso continua a rimanere risolto il problema dei 2.500 lavoratori della Multiservizi a Palto Scuola. Gara all'otto unico, gara a cinque lotti, gara a doppio getto, non si capisce come sempre in tutte le cose dove questa giunta voglia andare, dove voglia andare a parare. Noi abbiamo detto fin da luglio la soluzione e la reinternalizzazione di questo servizio, però ci dicesse la giunta che cosa vuole fare. Grazie.